Un contrasto tra vicini di casa culmina con un arresto e una persona che finisce in ospedale con gravi lesioni. È successo l'altra sera a Verbagna. Due pattuglie dei carabinieri sono intervenute per una lite in un condominio dove un giovane, in evidente stato di ebrezza, aveva picchiato un altro condomino procurandogli gravi lesioni. Il giovane, 27enne di origini straniere, già noto alle forze di polizia, si è mostrato subito aggressivo anche con i militari, tanto che per contenerlo è stato necessario chiedere l'ausilio di altre due pattuglie della Polizia di Stato della Questura di Verbagna al momento in servizio. Condotto in caserma con non poca fatica, i carabinieri lo hanno dichiarato in arresto per resistenza pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento aggravato poiché durante il tragitto ha danneggiato l'auto di servizio dei carabinieri. Il mattino seguente, dopo la convalida dell'arresto, il giudice ne ha disposto l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. La stessa notte a Baveno i militari del radiomobile di Verbagna, mentre stavano effettuando dei controlli alla circolazione stradale, hanno intimato l'alta uno scooter il cui conducente, invece di fermarsi, si è dato alla fuga. I militari si sono lanciati all'inseguimento, ma l'uomo poco più avanti ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra, per fortuna senza conseguenze. È stato raggiunto il soccorso, si tratta di un 38enne, già notto e sottoposto alla libertà controllata. È stato denunciato per resistenza pubblico ufficiale, per non aver ottemperato all'alta dei carabinieri, per guida in stato di ebrezza e guida sotto l'effetto di stupefacenti, perché si è rifiutato di sottoporsi a entrambi gli accertamenti e per violazione degli obblighi imposti dalla libertà controllata, dato che si trovava fuori dal comune di Verbagna come stabilito dall'autorità giudiziaria.